ben trovati abbiamo deciso di parlare di questo fascicolo di out out per diversi motivi primo un motivo è un motivo riparatore è uscito nel marzo del 2020 sto parlando del secondo fascicolo Agostino Pirelli il sapere di uno psichiatra e cioè è uscito proprio nel bel mezzo di un vortice del co-vortice covid il secondo motivo invece è un motivo interno il secondo motivo riguarda il suo contenuto queste pagine rappresentano effettivamente il primo tentativo di riflessione e di messa in ordine anche biografico del lavoro dello psichiatra Agostino Pirelli un lavoro realizzato che parte dall'ordinamento della sua biblioteca e del suo archivio che il figlio Martino ha subito dopo la morte del padre voluto donare al dipartimento di Arezzo il fascicolo contiene alcuni saggi originali di Pierangelo di Vittorio, Mari Cassetaro, Mario Colucci e insieme a questa c'è anche la prima lezione Pirelli tenuta da Arezzo nel maggio del 2019 da Vittorio Lingiari ma ci sono anche alcuni scritti inediti e poco noti di Agostino Pirelli un fascicolo che ha alle spalle e questo va detto un lavoro invisibile ma fondamentale e cioè il lavoro archivistico dello staff a retino curato da Luca Lenzini e da Lucilla Gigli. Il titolo è secondo me molto indicativo e molto significativo non è Agostino Pirelli lo psichiatra ma il sapere di uno psichiatra. È un titolo molto largo, è un titolo che ha a che fare con la battaglia di critica all'ideologia e alle istituzioni psichiatriche ma al tempo stesso è un titolo che si attaglia perfettamente a quello che è stato Agostino Pirelli, cioè uno scienziato umanista e quindi è anche una biografia di un momento decisivo del novecento. Buongiorno, sicuramente questo fascicolo Pirelli è una splendida occasione per rendere merito all'opera di Agostino che ricordiamolo è stato sicuramente uno dei collaboratori più stretti di Franco Basaglia e che sicuramente ha impresso una spinta decisiva al movimento di destituzionalizzazione in Italia sia a Gorizia e sia successivamente ad Arezzo e a Torino. Però ricordiamolo che Agostino è sopravvissuto a Franco Basaglia nel senso che dopo la sua morte ha dovuto anche farsi carico di un'eredità difficile che non era solo un'eredità di pratiche ma anche un'eredità di pensiero. E su questo io credo che il fascicolo illumini questa grande pulsione di sapere, per riprendere il titolo dell'intervento di Di Vittorio che anima la psichiatria italiana e che può essere sintetizzata in una frase che Agostino riprendeva dal filosofo Adorno quando Adorno diceva pensare in modo che Auschwitz non si ripeta. Ebbene Agostino Pirelli diceva noi dobbiamo estendere questo impegno che notiamolo non è nell'agire ma nel pensare al manicomio. C'è una grandissima spinta alla ricerca, allo studio, all'approfondimento. Agostino che aveva seguito così da vicino le pratiche della destituzionalizzazione ci ricorda però anche un impegno a ripensare queste pratiche e quindi a fare della destituzionalizzazione un campo inesauribile di ricerca. Grazie Grazie